L'Europa sembra essere d'accordo è sull'addio ai motori diesel. Da Roma a Parigi sono tante le principali capitali europee che stanno per dire addio alle auto a gasolio per combattere l'inquinamento, così anche le case produttrici si stanno riorganizzando. Vediamo il servizio. Un addio già scritto. Le auto a gasolio sono nell'occhio del ciclone dallo scandalo dieselgate del 2015 ed ora finiscono nel mirino delle principali capitali europee, a caccia di soluzioni per liberarsi dello smog. La pioniera è Parigi che punta a far scattare il divieto alla circolazione già dal 2020. Seguita da Roma, la sindaca Raggi ha annunciato lo stop in centro dal 2024, ma è Milano ad aver già avviato le prime limitazioni e sarà totalmente diesel free dal 2030. Un fronte molto ampio che va da Barcellona a Londra e coinvolge anche i paesi più inquinati al mondo, come la Cina, che entro il 2025 prevede di avere almeno un quinto delle vendite di auto green. La questione è tanto più sentita in Germania, dove lo scandalo delle emissioni truccate è esploso ed ora la sentenza del Tribunale Amministrativo federale ha riconosciuto il diritto dei sindaci a imporre divieti ai diesel. Ma ancora prima delle città è il mercato che sta cambiando. In Europa le vendite lo scorso anno sono crollate e si prevede che nel 2020 meno di un'auto su tre sarà alimentata a gasolio, così spinte anche dall'aumento dei costi per mettersi in regola con le norme più stringenti sulle emissioni. Le case automobilistiche stanno cambiando strategia e puntano al verde. Entro il 2030 si prevede che nell'Unione Europea un'auto su due sarà elettrica o ibrida, ma aumenterà anche la quota di GPL e metano. Tema caldo, ne parliamo con Raffaele Chiuli, presidente di SAF, Organizzazione per la Sostenibilità Ambientale delle Fonti Energetiche. Benvenuti alla News24. Ricordiamo che tra l'altro il 2 marzo a Roma si terrà proprio sul tema un incontro, un pieno di energia per la mobilità sostenibile. Allora, mobilità sostenibile, addio al diesel, ma quanto le nostre città sono davvero pronte a un cambio così epocale? Certamente la decisione presa dal Tribunale Amministrativo di Lipsia apre nuovi scenari, nuovi orizzonti e questo fa sì che appunto giudici amministrativi possano incidere su quelle che sono poi le decisioni a livello di amministrazioni comunali, come ad esempio i casi che lei citava, per far divieto alla circolazione, nel caso specifico, di mezzi diesel nelle città. Oltre ai casi che lei citava, ci sono altri casi anche nel mondo di città che già hanno adottato provvedimenti, diciamo, di blocco nei centri storici dei veicoli diesel. Io credo che la mobilità sostenibile darà spunto per una nuova rivoluzione industriale. Bisogna ripensare i modelli di sviluppo, i modelli economici, i modelli occupazionali, perché le città ad oggi, pur essendo molte tecnologie disponibili, non sono pronte. Ecco, a questo proposito, perché un divieto come quello del diesel è facilmente applicabile, ma in senso propositivo come si incita a applicare modelli di mobilità sostenibile ai cittadini? Io credo che bisogna far leva su quattro pilastri fondamentali. Innanzitutto, siamo tutti convinti, e questo ce lo dice l'Europa, gli Stati membri devono adattarsi, bisogna decarbonizzare l'economia, decarbonizzare i trasporti e produrre energia da fonti sempre meno impattanti. Bisogna far sì che, come diceva lei prima, si ripensino le città del futuro. Bisogna far sì che, diciamolo chiaramente, si colga l'opportunità per creare una filiera industriale nazionale del nostro Paese e poi bisogna far sì che ci si avvalga delle nuove soluzioni tecnologiche, innovative, che ad esempio si stanno sperimentando anche nel mondo dello sport, automobilismo, motociclismo, anche nella motonautica, e ricorrere anche, perché no, all'intelligenza artificiale. Quindi sinergie tra l'automotive, ma anche altri grandi protagonisti, quali ad esempio Google, Microsoft, eccetera. Un tema molto importante per città come Roma, ma anche Milano, è quello del trasporto pubblico. C'è un dato molto importante. Il 30% di tutta la CO2 emessa in totale nel nostro Paese viene proprio dal settore trasporti. Però siamo molto indietro ancora da questo versante per riconvertirci, diciamo, al green o ci sono già dei passi avanti? Siamo molto indietro, anche se qualche passo avanti è stato recentemente fatto. Siamo indietro perché bisogna ovviamente coniugare, perché quando si parla di mobilità sostenibile si parla sostanzialmente di un sistema di trasporti pubblico-privato che minimizzi gli impatti ambientali, gli impatti sociali, ovvero sulla salute dei cittadini, delle persone, massimizzando l'efficienza, l'intelligenza e la rapidità degli spostamenti. Il parco di mezzi pubblici italiano è generalmente obsoleto. Quando si parla di massimizzare l'efficienza significa anche dei mezzi di trasporto. Significa trovare soluzioni in termini di fuel mix che siano ottimali. Quindi bisogna parlare anche di combustibili alternativi o sostitutivi. Vedi biocarburanti, vedi GNL o quanto oggi già tecnologicamente è disponibile. Grazie, grazie Raffaele Chiuli per essere stato con noi.